No, siamo in diretta, ciao Karim, ciao a tutti i ragazzi, ciao Giuseppe, ciao a tutti quanti, come stai Karim? Bene, bene, di questi tempi non ci possiamo lamentare, però tutto bene, tutto bene, tu? Intanto grazie di essere venuto qua, io sono molto contento di averti qua perché la storia di questo invito è lunga nel senso che Giovanni Come, che salutiamo in chat, che è un amico comune, stavamo chiacchierando a Milano un bel giorno in un co-working e non mi ricordo di che cosa, però era venuto fuori il tuo nome perché parlo di programmatori, no? E ho detto sì, lo conosco Karim perché ti seguivo, conoscevo i tuoi video, ma di finanza, ci arriveremo poi perché parli di finanza, però in realtà tu sei un programmatore, sei un data engineer, e sei fuori dall'Italia, eccetera, eccetera, quindi una bella storia e stasera sono molto molto curioso di sentirtela raccontare. Allora, intanto. No, no, grazie, grazie intanto dell'invito, anche a me come ti dicevo prima, fa un sacco piacere stare qui, salutiamo e ringraziamo anche Giovanni. Grande, Giovannino. Allora, io intanto voglio sapere da te, perché sei a Berlino a fare il data engineer? Raccontacela tu, la storia come ti pare? Io la domanda te la faccio molto specifica perché mi incuriosisce sapere come sei arrivato lì a fare quello e cosa fai? Bella domanda, bella domanda, diciamo vado a ritroso allora, visto che partiamo dallo status quo, partiamo da adesso e sono arrivato a Berlino due anni fa tendenzialmente perché nella startup in cui lavoravo a Roma mi sono ritrovato in una situazione in cui, diciamo, volevo cambiare dopo più o meno due anni e avevo capito che volevo fare un'altra esperienza, anche perché lavorare in una startup per me è bellissimo e mi è piaciuto un sacco, però allo stesso tempo mi rendevo conto che volevo imparare anche di più sul data engineering in generale e soprattutto nel data engineering in generale e nella startup lavoravo, diciamo, da solo tendenzialmente su questi argomenti. Quindi avevo capito che mi sarebbe piaciuto fare un'esperienza magari anche con persone più senior di me magari e riuscire appunto ad imparare di più poi su questo argomento. In quel momento le possibilità erano due o tre, diciamo, era rimanere a Roma, trovare un'altra opportunità, complicato. Com'è la situazione a Roma? Diciamo, ci sono possibilità per programmatori, software engineer, sicuramente anche interessanti, magari non facilissime da scovare tendenzialmente e soprattutto molte nell'ambito della consulenza, oggettivamente. E avevo già lavorato in consulenza per più di due anni e diciamo che non volevo tornare in quell'ecosistema semplicemente perché avrei preferito anche provare qualcos'altro. Dopo la startup, la consulenza, ci avevo già lavorato, non mi andava particolarmente di ritornare in quell'ecosistema, quindi dicevo, ok, vorrei trovare qualcosa. Quindi la prima possibilità era Roma, ma sapevo che avrei dovuto fare una ricerca abbastanza approfondita e sarebbe durata un po'. Spostarmi da qualche altra parte dell'Italia, possibilità che ho valutato comunque, anche se appunto non sapevo quanto sarebbe stato effettivamente conveniente in quel momento per me spostarmi altrove, magari andare in affitto da qualche altra parte, mentre invece a Roma non ero in affitto fino a quando lavoravo lì. E quindi in quel momento le due vere possibilità erano o spostarmi da un'altra parte oppure spostarmi da qualche altra parte dell'Italia, visto che in Roma non avevo ancora trovato nulla di allettante, almeno che mi piaceva in quel momento, che ricercavo. E quindi ho cercato anche a iniziare, ho iniziato anche a cercare all'estero e lì poi si sono presentate appunto un sacco di opportunità, perché diciamo il panorama fuori dall'Italia è molto molto ampio, soprattutto nella data science o data engineering, comunque c'è una buona domanda, grazie al cielo oserei dire, almeno o perlomeno. C'era una buona domanda nel momento in cui io ho cercato lavoro, ossia due anni fa. Quando? Due anni fa. Due anni fa? Due anni fa. Sì, era prima che succedesse, diciamo, anche tutto il casino in Europa, eccetera, eccetera, quindi diciamo che due anni fa c'erano buone opportunità e trovai questa azienda per cui lavoro, che è una multinazionale americana, che cercava persone da remoto. Però che lavorassero dalla Germania o dal Regno Unito. Ah, come mai questa cosa? Questa mi suona nuova. Esatto, perché hanno solo due sedi, una in Europa, una in Regno Unito, una in Germania e per questioni di tasse, loro essenzialmente non possono assumere persone, diciamo, dalla Germania all'Italia. Dovrebbero passare per intermediari o comunque fare quello che fanno anche tante aziende in Italia, che insomma passano per intermediari, dovrebbero fare queste cose qui. Loro per policy aziendale non lo fanno, quindi ogni expat che lavora per loro, diciamo, è forzato o comunque gli viene richiesto di spostarsi o nel Regno Unito o in Germania. Nel mio caso volevo imparare una nuova lingua, mi ero detto che era una buona possibilità, diciamo, dico dal momento che mi devo spostare, a sto punto lo sfrutto anche magari per imparare un'altra lingua. E Germania, in quel caso, cazzava a pennello. Qual è la città della Germania dove aveva più senso, in generale? In Hamburgo c'è un ufficio dell'azienda per cui lavoro, però Berlino era la città più internazionale, la città in cui mi sarebbe... Quindi hai scelto Berlino completamente a caso? Completamente a caso, bravo. A caso nel senso che preferivi andare a Berlino, ma non perché l'azienda è a Berlino. No, 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 è stato... È stata tutta una questione di criteri, diciamo, appunto, la città forse dove mi sarebbe potuto ambientare meglio, almeno dal momento zero, visto che non parlavo nemmeno una parola di tedesco oggettivamente. E, diciamo, c'è una quantità di expat e persone internazionali qua veramente assurda. Cioè, sono paradossalmente quasi di più gli expat che le persone di qui, tendenzialmente. Quindi quasi tutti, ovviamente, ovunque si parla inglese e a quel punto anche oggettivamente i costi della città sono più bassi rispetto ad Hamburgo e rispetto a tutto il resto della Germania, perché Berlino è storicamente una città che è stata povera in passato ed è rimasta comunque una città con costi della vita non troppo elevati. E quindi, diciamo, sono arrivato... mi sono spostato qui, diciamo, sì, senza particolare criterio... No, no, però sì... non so perché ho dato per scontato che l'ufficio fosse a Berlino. Mi trasferi... cioè, quindi, mi trasferisco a Berlino perché l'azienda è tedesca, cioè tedesca, perché voleva una persona che fosse fisicamente in Germania, ma senza dove andare in ufficio. Questa cosa è bellissima. No, scusami, dicevi costi della vita più bassi, no? Dici l'idea di quanto può costare un affitto a Berlino. Allora, hai toccato, vabbè, un tasto abbastanza dolente, nel senso che gli affitti sono una delle cose, diciamo, su cui i costi possono essere leggermente più alti, forse di quello che sono abituato io. Magari per una persona media, cioè per una persona che vi è a Milano, sono bassi da quello che mi hanno detto tendenzialmente, però, ad esempio, prima, dove ho abitato l'anno scorso, per un anno, una casa di poco meno di 40 metri quadri, più o meno nell'area centrale comunque di Berlino, pagavo 1150 euro, più o meno. Monolocale, eh? Monolocale proprio mio. Sì, comprese di spese, comprese tutte queste spese. Sì, forse siamo leggermente sotto Milano, non sono sicuro, ma il centro centro ci sta. Ma appunto è molto variabile anche dalle opportunità che trovi, è difficile trovare una casa, però puoi trovare qualcosa anche a molto meno di quello, sicuramente, oppure anche a di più tendenzialmente, quindi, sì, sì, dipende molto. Però i costi della vita, tranne il discorso affitti, per il resto sono molto, molto paragonabili a quelli che c'erano a Roma. Se considero il fatto che qui non ho molte spese che a Roma avevo, ad esempio, io qui oggettivamente la macchina non ne ho bisogno e anche quando ne ho bisogno, ne voglio aver bisogno, magari ne affitto una col car sharing e comunque massimo, massimo posso pagare 50 euro al mese di car sharing, ma non è comprare e mantenere una macchina, diciamo, per tutto il tempo. Quindi, diciamo, quando sono andato dopo alcuni mesi, dopo 5-6 mesi, a farmi i conti su quanto effettivamente stavo spendendo, mi sono reso conto che in realtà spendevo uguale o di meno a quello che spendevo a Roma, e non avevo sacrificato comunque il mio stile di vita, nel senso che non è che sono venuto qua e poi non facevo più niente perché magari volevo risparmiare, no, faccio le stesse cose, cioè faccio le stesse cose tendenzialmente, forse qualcosa in più perché, diciamo, sono in centro città e posso fare tutte le sere qualcosa da fare tendenzialmente, però sì, bene o male i costi sono un po' più bassi, che non significa, non sono nemmeno uno di quelli che dice venite tutti a Berlino perché Berlino è bellissima, è la città migliore d'Europa, dove vivere, eccetera, eccetera. No, non è così, cioè ci sono cose belle, ovviamente cose brutte, vantaggi e svantaggi, penso su tutte le città tendenzialmente. Ma sei contento della tua scelta? E poi sì, sì, assolutamente, non sarei rimasto proprio due anni addirittura se proprio non potevo, cioè non mi sarebbe piaciuta assolutamente. Magari avrei cercato un altro lavoro, magari visto che poi l'azienda mi dava la flessibilità volendo anche di spostarmi dove mi pareva, me ne sarei andato. Proprio a gambe levate, ovviamente, però... Invece si trovi in bene. Interessante. Allora, io intanto saluto un po' di gente, scusate, saluto solo un po' di gente che hai salutato in chat. Alessandro, che fa una domanda tecnica, ci arriviamo, nel senso, dopo passiamo al tuo ruolo di data engineer. Ma prima, io sono ancora curioso, perché tu comunque sei un ragazzo giovane che sembra ha fatto una cosa interessante. Hai preso, e quindi volevo capire meglio questo processo, tu avevi la volontà di cambiare lavoro, poi tu fai una cosa molto specifica, poi magari ci sono più sviluppatori web tradizionali, ma tu hai detto, ok, mi guardo all'estero, guardo fuori, guardo com'è. Come ti sei mosso? Cioè, com'è andata la cosa? Io sono curioso, perché a me piace, quando la gente dice, ma sai cosa, vado a lavorare a Berlino per un'azienda che ha sede d'Amburgo ed è americana. Quindi già mi piace. Però appunto, com'è nata sta cosa? Se dovessi anche dare un po' spunto a chi non si guarda fuori dalla città. No, sì, sì. Mi rendo conto che non è facile all'inizio e nonostante sono passati due anni, comunque mi ricordo che quei mesi sono stati mesi di ricerca intensa, diciamo, in cui io vedevo anche la ricerca di un lavoro un po' come una cosa seria. Cioè, per me non era la sera post lavoro, mando 3-4 candidature, le prime cose che mi escono fuori e basta. No, mi ricordo che ci dedicavo proprio del tempo nel calendario e dicevo, ok, voglio cercare lavoro in questo tempo. E facendo ricerche online, ovviamente venivano fuori sempre siti nuovi dove cercare, tra cui, vabbè, i più popolari ovviamente LinkedIn, Monster, Indeed, eccetera, eccetera. Tra l'altro, lavoro ho trovato alla fine tramite LinkedIn, però, diciamo, questo è stato solo un caso, eh, solo un caso, ovviamente, onestamente, perché ho fatto colloqui su tantissime piattaforme, anche specializzate proprio soltanto su programmatori all'estero e programmatori da remoto, tendenzialmente. Ok. Quindi, eh, c'era, ad esempio, se posso nominare qualcuna, ce n'è una che si chiama Offerzen, o anche una che si chiama Accord, tutte piattaforme che non avevo mai sentito in realtà. Offerzen. Eh, sì, Offerzen è carina, lo sai perché? Perché permette di fare degli sprint in cui cerchi lavoro. Cioè, loro, praticamente, eh, selezionano dei programmatori ad ogni sprint e, eh, praticamente, tu in due settimane, loro ti fanno fare un sacco di colloqui e non è che ti promettono, ovviamente, che tu troverai un lavoro. Però, tendenzialmente, ti danno modo di avere contatto con diverse aziende, eh, quindi, è un concetto, secondo me, che è un sacco interessante. Mi era piaciuto, io ero rientrato in uno sprint e, eh, avevo fatto un bel po' di colloqui con loro, per aziende olandesi, soprattutto, soprattutto in Olanda. Ah, ok. Ma in Olanda, se non sbaglio, anche il livello stipendi non è niente male, o ricordo male. No, sì, sì, sì. Se poi consideri che in Olanda c'è anche un'agevolazione del 30%, cioè che paghi il 30% in meno di tasse se sei un programmatore o comunque una professione ad alta qualifica che va a lavorare lì, diciamo, gli stipendi diventano ancora più interessanti. Ovviamente il costo della vita, pure in Olanda, magari può essere leggermente più alto, ma non lo so, non lo so. Poi si dice la stessa cosa della Germania, quando alla fine, nella mia esperienza, appunto, come ti dicevo prima, non esattamente così. Però per rispondere, cioè per rispondere in generale a quella cosa che mi chiedevi, appunto, facevo colloqui su Offerzen, Cord, Link. Io intanto sto mettendo il mio profilo. Fa mai! Allora poi mi racconterai anche tu se puoi andare a lavorare all'estero, non lo sapevo, non mi avevi detto. Fa mai! Comunque, sì, un po' LinkedIn, un po' appunto tutte queste piattaforme, sono usciti fuori quei, ma poi su LinkedIn mi ricordo anche che magari contatti con recruiter che cercavano proprio programmatori sono stati preziosissimi, perché poi una volta che ti conoscono e magari vai bene ad un colloquio, cominciano a mandarti dieci possibilità e magari tu, cioè, ti trovi in una situazione comunque buona in cui magari puoi, anche tu, a volte, cioè, nel senso non è scontato e non è che mi sia capitato chissà quante volte, però magari puoi avere la possibilità di scegliere tra due colloqui quale fare o farle tutti e due, che era il mio approccio tendenzialmente quasi sempre, però, sì, quindi diciamo, tutte le piattaforme possibili, immaginabili, ma quelle conosciute e alcune sconosciute che trovavo facendo ricerche online, cioè, mettendo di lì, uno cerca, che ne so, web development, probabilmente c'è una piattaforma di web development che ricerca proprio solo quel tipo di professioni, per cui a me è andata così, ho trovato questo lavoro che era, che è da remoto poi tendenzialmente, perché non è che il lavoro... Cos'è, devi avere la residenza in Germania? Per loro? Sì, sì, devo avere... Per avere il contratto da dipendente con loro, giusto? Esatto, fin tanto che sono qui per sei mesi meno un giorno, quindi... No, sei mesi più un giorno in questo caso. No, più, sei pazzo! Esatto, dico, fin tanto che non sono in Italia per sei mesi meno un giorno, però fin tanto che sono qui la maggior parte dell'anno, diciamo, tutto va bene, per cui... Come dice, cioè, riguardo l'ufficio, seppur non ho un ufficio qui a Berlino, perché appunto Yelp, l'azienda per cui lavoro, non ce l'ha, Io comunque lavoro da un ufficio, perché non so, te, come ti trovi a lavorare da casa, se per te è fattibile... Io non faccio testo, io mi sposto troppo, non ho più neanche una casa! Lascia a fretta! Però, sì, tendenzialmente comunque qui... No, se hai un co-working bello, io lo dico sempre, anche quando viaggio in realtà li cerco, perché è proprio bello, un bel modo di lavorare, che sei strutturato, cambi anche aria, cioè, incontri persone, sì, sì, sta figo, però... No, sì, principalmente la prima cosa che mi sono detto, sempre in quel momento in cui ho scelto di venire in Germania, è stata, se devo andare in un altro paese, per stare chiuso dentro casa, 5 giorni su 7, e da lavorare 8 ore al giorno, non ci vado, cioè, è facile. O mi trovo una possibilità che mi permette di godermi la vita qui, di conoscere la vita qui, di conoscere persone, di fare cose, e la sviluppo, e in questo caso è stato il co-working, ho cambiato tanti co-working, a seconda di dove vivevo, diciamo, a Berlino, però, o trovavo questo, o appunto si faceva questa possibilità, o altrimenti sarebbe stato, secondo me, non fattibile, o almeno, non valeva troppo la pena, cioè, nel senso, se vado in un posto all'estero e devo stare chiuso dentro casa, cioè, non lo so, il valore... Non lo so, non è per me, facciamo così, magari qualcuno si trova bene con... Conoscere da solo, almeno... Esatto, esatto. Sì, sì, sì. Però ci sono anche tanto privilegiare qui. Ancora qualcuno... Ah, intanto c'è Massimo Astini, Massimo Astini, Massimo Astini, Massimo Astini, Ghostwisp, che forse so chi è, ma sto nome non mi suona mai, maestro Giuffi, grazie, troppo buono. Questa live è capita appena, io vorrei prima stare un po' al nord per fare esperienza, voglio il nord d'Italia, e poi, appunto, anche io alla Germania, studio la lingua da un po' le basi. Ecco, però, secondo te, quanto serve in Germania, adesso, vabbè, nel tuo caso, azienda americana, pensi a Berlino, però secondo te quanto serve sapere il tedesco all'interno delle aziende in Germania? Perché magari solo con l'inglese, anche in un'azienda tedesca, non lo so, eh. Sì, sì. Secondo me, io parlo solo per la nostra professione, perché solo quella, diciamo, ho uno storico abbastanza buono di persone che mi hanno dato feedback a riguardo, e per la nostra professione non è indispensabile, direi. Perché, cioè, conosco veramente pochi software ingegnere che lavorano in tedesco, nonostante sono tedeschi. Cioè, amici tedeschi lavorano in inglese, perché comunque ci sono, è international nel team, e quindi si parla in inglese. E noi non siamo abituati a questa cosa qua in Italia, perché non succede mai che, diciamo, la lingua ufficiale aziendale non è l'italiano, però spesso e volentieri, cioè, quasi sempre, la lingua ufficiale è l'inglese, per i software ingegnere. Se poi uno guarda al di fuori, magari vuole andare in un'azienda tipo, che ne so, Volkswagen, Mercedes, queste aziende comunque tedesche e tedesche, comunque magari con una mentalità un po' più cassettista, non so come chiamarla, però. più old school facciamo, se uno magari vuole entrare in questa azienda potrebbe essere più importante, comunque conoscere il tedesco. Però di base per ingegneri informatici o comunque derivati da questo, secondo me no. Invece, magari se uno lavora nel marketing, ovviamente che magari deve fare pubblicità, deve sapere scrivere bene una mail. Ah, certo. Lì comincia a diventare importante, in generale, conoscere il tedesco, però ovviamente da software ingegnere, onestamente, ho conosciuto veramente poche, poche persone che lavorano in tedesco, ed è uno dei motivi per cui a Berlino quasi nessuno impara il tedesco, alla fine. Ok, lo stai imparando tu? Io ho fatto sei mesi di corso all'inizio, quando sono arrivato, ho imparato la sopravvivenza ad un livello buono. Adesso è abbastanza in pausa, nel senso che lo faccio di background, ci vivo, quindi ogni qualche volta, ovviamente capita che mi trovo con amici tedeschi, che parlano tutto il tempo tedesco, ascolto, il 90% del tempo rispondo in inglese, però bene o male, piano piano, uno lo assorbe. Non mi sento minimamente sicuro, diciamo, di parlare, di fare conversazioni di un certo tipo, se non per presentarmi o per dire cose banali, però di certo non ho minimamente un livello per parlare di politica, non lo so, giusto per citare qualcosa. Sì, 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 vabbè, ma poi il tedesco è anche difficile come lingua. Sì, sì, però in generale comunque in realtà se uno ovviamente pensa di vivere in un posto e pensa di viverci a medio-lungo termine anche, ma anche soltanto per divertimento, io iniziai per divertimento alla fine, secondo me vale sempre la pena comunque imparare tedesco o comunque qualunque altra lingua, anche perché poi in termini, seppur c'è a Berlino, vivi bene anche solo con l'inglese, ma altrove non credo, cioè senza il tedesco rimani isolato comunque tendenzialmente, secondo me. Beh, ecco, come in Italia, forse a Milano con l'inglese ci vivi, ma appena esci solo italiano. No, sì, sì, sì. Non lo so immaginare, no, sì, 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 non lo so immaginare veramente. Allora, no, scusa, scusa, finisci, che stavo vedendo. No, niente, 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 dicevo solo. Beh, Mario, sì, in realtà l'abbiamo già risposta. Perché dice, ho provato anche diverse piattaforme, ma poi l'ho trovato solo su LinkedIn lavoro, ben tre contatti. Beh, LinkedIn sta diventando un po' un collettore internazionale, effettivamente. Anche se io all'estero non ho mai cercato. Però mi contattano, mi contattano, è vero, dall'estero, quindi funziona. Sì, qualcosa. Penso comunque che in generale, seppur esistono tante piccole piattaforme con cui uno può trovare lavoro e fare colloqui come feci io, quelle offerte le trovi anche su LinkedIn, poi alla fine. Cioè, dubito che un'azienda mette l'offerta solo su una piattaforma di terzi, piccolina. Cioè, alla fine la mette anche su LinkedIn. Quindi, ovviamente la potenza di LinkedIn rimane per adesso ancora overpower rispetto a tutte le altre mini piattaforme, probabilmente. Però, quando uno cerca, magari vale la pena comunque sicuramente provarci su tutte le piattaforme. Fa lo stesso. Poi, magari una cosa che funziona particolarmente bene qui, sono appunto come dicevi tu, che cosa che tu magari hai sperimentato di più perché hai viaggiato, però i co-working qui, per quello che ho visto, per trovare lavoro funzionano benissimo. Cioè, un sacco di persone si appoggiano anche sui canali Slack per cercare lavoro o per cercare persone senza nemmeno fare annunci online, cose di questo genere. E spesso e volentieri magari trovano qualcuno. Quindi, il network fisico funziona bene, cioè, nelle grandi città soprattutto. Non so a Milano, onestamente, perché ci sono stato tante volte, però non ho mai sperimentato più di tanto il co-working in realtà di questo tipo, per cui non saprei dire se il network li funziona così. Diciamo che probabilmente tutto è un pochettino più piccolo. Cioè, poi, vabbè, Milano, parte Giovanni, che abbiamo sentito prima, che ho beccato in dei co-working e non ci vado spessissimo in co-working. Però, in generale, quello che dici tu di fare rete, di persona, vale per tutto. Adesso io sono stato al CodeMotion, a questo evento gigante di programmazione. C'erano un sacco di persone, anche un sacco di aziende. È normale che se uno inizia a vedere tante persone, anche così, hai più possibilità. Perché poi magari rimani impresso per qualcosa e conosci una persona che gli serve in azienda una figura e ci aspetta, ma c'era quello lì che sono rimasto a chiacchierare quel giorno, cioè, senza arrivare a fare i toglie, senza diventare super personaggi dell'informatica. Però, in generale, poi conoscevo anche un sacco. A me colpiscono delle persone che poi mi tornano in mente ogni tanto. Tipo un ragazzo, stavo parlando di un ragazzo l'altro giorno a questo evento, che, guarda caso, stava iniziando a cercare. Ieri mi hanno scritto per un lavoro che io non posso prendere. Ho detto, aspetta, ma forse quello cercava? Provo a chiedergli. Cioè, è proprio fisica. No, sì, sì, sì. Ma anche poi il tipo di rapporto che... Cioè, una volta che sviluppi un rapporto personale con qualcuno, ma anche con un potenziale cliente, poi, cioè, è molto più facile che chiama te, piuttosto che mettersi magari a cercare un altro cliente o a cercare qualcun altro, così. Cioè, a me, nonostante io non mi sono mai detto di essere un freelancer e tutti qui sapevano che non lavoravo come... cioè, non lavoro come freelancer, data engineer. Però, comunque, una persona in generale che gli serviva un progetto mi è venuto a chiedere se volevo prendere questo progetto per fare questa cosa qui, solamente perché ci eravamo conosciuti dentro al co-working. Quindi, nel senso, se uno investe nel network, che per carità non è facile, ovviamente, quando devi lavorare, stai nel co-working, magari non tutti hanno tempo di mettersi lì a chiacchierare, a fare tutto il tempo. Però, a un certo punto viene anche naturale dal momento che ci vai tutti i giorni, magari. A me veniva naturale, nel senso che, se ci vai tutti i giorni, siete sempre... e se sei 15-20 persone, a un certo punto li conoscete. Cioè, non è che... Potete andare avanti. Vincolarli, per sempre. Senza dire nemmeno una parola. Grazie, Salvatore. Questi live sono sempre interessanti, spero le mie. Ma segue Karim già da un po'. Bravo. Tra l'altro, poi, dobbiamo che... Abbiamo troppi filoni da chiedere. Karim, sta roba può durare veramente tanto. Io te lo dico. Tu non sei stanco da lunedì lavorativo. giusto. Per ora, per ora... Per ora no, bene, bene. ...la cola... ...mi sto cercando di tornare il più possibile. Vediamo quanto dura. Allora, domande pratiche. C'è sia questa di Gabriele, ma in realtà... Poi ci chiede dopo anche Dana. Ma se avessi la Germania, dall'Italia, c'è bisogno sempre di partita IVA? Allora, aspetta. Partiamo da questa. Allora, sono un po' diverse. Se per lei vogliono una residenza, si fa una certificazione, vabbè, hai la residenza, hai i documenti. Allora, loro hanno bisogno del tuo certificato di residenza, che esiste anche in Italia, quando uno registra la residenza in un posto. Qui si chiama Unmeldung, ma è essenzialmente un certificato che il comune ti dà e che ti dice che tu lavori, cioè che tu vivi qui. Poi, se tu casa non ce la vuoi avere e vuoi decidere di vivere da un'altra parte, lo puoi sempre fare, cioè nel senso... con le ripercussioni del caso, nel senso che poi, se vivi ad esempio più di sei mesi in Italia, l'Agenzia delle Entrate potrebbe bussare alla tua porta e dirti amico mio, tu lavori e dichiari in Germania, però devi pagare le tasse anche qui, perché qui stai la maggior parte dell'anno, quindi non è che solo perché dici di vivere in Germania non devi pagare le tasse anche in Italia e a quel punto ti ritroveresti nella situazione magari di dover pagare doppia tassazione sia in Germania perché la devi pagare per forza, nel senso dal momento che sei assunto qui sia in Italia. Magari puoi fare... lo stile di vita da nomade lo puoi fare come in ogni paese, nel senso che si registri qui, ti prendi il certificato di residenza, poi viaggi, fai quello che vuoi, però... sì, diciamo, queste sono le possibilità e quello che serve, che io sappia. Voglio solo fare una nota su questa cosa che hai detto per una cosa che mi viene chiesta spesso, no? Ma se io vivo all'est, vado all'estero, viaggio tutto l'anno e sto meno di sei mesi in Italia, come faccio poi per le tasse? Ragazzi, tranquilli, che l'Italia, finché voi gli pagate le tasse, sono contenti. Il problema è non pagarle più. Come diceva Karin, se vai e fai la residenza all'estero, ma poi stai in Italia... più di sei mesi, o anche di meno, ma è resente... L'Italia comunque ci prova a dire, ma non è che tu fai finta di essere andato all'estero solo per non pagarci le tasse? Quindi il problema è sempre a non pagarle. A pagarle, potete stare anche un giorno in Italia, allora sono solo contenti. Poi dipende dove andate, ma l'Italia non è un problema se pagate. E quindi se volete viaggiare, io sto meno di sei mesi l'anno in Italia, ma i soldi li prendono senza battere ciglio. Al contrario, se invece andate a avere la residenza in un'altra parte, non state troppo in Italia perché vi si nota. Assolutamente. Io ho anche reato, forse c'è proprio un reato che identifica quando tu dichiari di vivere e pagare le tasse da un'altra parte, ma in realtà stai la maggior parte del tempo in Italia. Non mi ricordo come si chiama, però ovviamente sei anche bene. Si chiama una fiscale? Sì, è una forma, diciamo, di vivazione fiscale. Ha proprio un nome specifico. Ma un nome specifico che non mi ricordo. Ma se volessi lavorare per la Germania dall'Italia, c'è bisogno sempre di partita? Iva? Dipende. Dipende. Sì, sì, dipende. Se vuoi... Ci sono intermediari, ne parlavamo... Ah, tra l'altro, scusa, prima che la perdiamo, estrovestizione. Bravo, eccolo. Ecco. No, il discorso è che ci sono delle aziende che fanno da intermediare, come diceva prima Karim, per aziende che... Ce ne sono tante per aziende americane, per esempio, ma in generale, che praticamente aprono delle sedi nel paese, è come se avessi una sede nel paese, tipo in Italia, e quindi tu vieni assunto da questa azienda che ha sede in Italia, quindi sei un dipendente normalissimo, che poi questa azienda fattura all'azienda. Ne parlava Michele Riva in un talk su questo, più o meno, al Code Motion. e quindi lo fanno in tanti. Altrimenti, con la partita IVA, semplicemente tu fatturi all'azienda americana e poi ti paghi le tue tasse. Loro ti pagano la fattura, quindi non sei un loro dipendente, però in realtà ci sono molte aziende che assumono e ci sono proprio questi intermediari, ma ce n'è un po' che stanno commentando proprio a gestire questa cosa qua. Chissà, sarebbe curioso, non so se tu hai qualche informazione al riguardo, però se magari tramite questi intermediari italiani, ovviamente, perché hanno sede sul territorio italiano, magari si riesce anche ad avere qualche contatto lavorativo, inteso come aziende e ricerca di professioni, non lo so. Ma tu dici, beh in realtà alcuni sono internazionali, adesso ce n'è proprio di giganti che fanno questo, hanno una sede tipo in ogni paese, c'era una, purtroppo io non l'ho mai usata, però che tipo ha 150 paesi, ma sede in 150 paesi diversi, per coprire tutto il mondo, quindi tu vai da loro, tua azienda, e dove vai, vai, puoi assumere gente come fosse del posto, questo è un po' il loro business, però effettivamente sono un ottimo collettore di aziende che assumono dall'estero, è veramente interessante questo da indagare, non ne ho idea. Tra l'altro non so se ti era mai capitato anche alcune volte, ormai fanno anche quasi in forma di contratto con partita IVA, cioè nel senso loro ti fanno un contratto come se fossi un dipendente, nel senso ti garantiscono che tu avrai i tuoi giorni di ferie, tra virgolette, tutte queste cose qui pagate, oggettivamente, non ti possono garantire la malattia, se non forse con dei fondi interni, probabilmente all'azienda, non saprei, però l'unica cosa che da te è richiesta è che tu però fai tutto in partita IVA, quindi poi le tasse le gestisci tu e fai tutto così, però hai effettivamente un contratto come se fossi quasi un dipendente però non dipendente, sono diventati tantissimi in Italia quelli che lavorano con questa modalità, cioè ne conosco io già. Sì sì sì, ma io l'ho fatto anch'io guarda per un periodo, per un periodo l'ho fatto, nel senso che avevo un'azienda che diceva vogliamo che tu lavori full time per noi e anche se all'inizio avevo fatto la giornata a un certo punto avevo un contratto con un tot fisso mensile senza un numero di giornate, quindi ipoteticamente potevo prendere ferie, cioè nel senso era una copertura un po' più ampia perché poi era un'azienda estera in realtà era svizzera quindi doveva fare qualcosa per tenermi e non riuscivano a assumere eccetera però sì alla fine poi in Italia in questo momento nella partita IVA c'è un regime fiscale vantaggiosissimo quindi in realtà vincevano tutti in effetti stanno aumentando tanto con questo regime fiscale molti stanno facendo questa cosa qua no no ha senso dal loro punto di vista andiamo a Berlino Beppe andiamo a Berlino cari allora se te Maria Giovanni che interviene così io invece le dico Al come agire per andare lì se ti chiamano per lavorare dove stai se non puoi garantire che lavori per la casa nel senso lui probabilmente dice cioè tu come hai fatto cioè ti assumo dove dormivi forse i primi giorni non ti davano l'affitto non lo so ovviamente c'è un margine di tolleranza partiamo da questo assunto nel senso che loro tu arrivi in Germania non è che dal giorno uno devi avere una residenza già segnata e ogni cosa perfettamente settata nel senso l'importante mi sembra che entro i primi due mesi che inizi a lavorare entro questo margine di tempo tu hai trovato una casa in cui registrare la tua residenza e che vivi lì tendenzialmente altrimenti la residenza non te la danno cioè il proprietario se paghi l'affitto sì forse te la dà lo stesso però tendenzialmente diciamo per dartela dovresti vivere lì ovviamente però una volta che arrivi hai due mesi se non mi sbaglio non ricordo bene quanto è grande questo lasso di tempo però per trovare una casa registrare la residenza e poi da lì appunto nessuno ti viene a bussare alla porta per sapere se tu stai a casa o se non stai a casa cioè nel senso se tu vuoi spostarti perché sei un nomade digitale diventi cioè lavori da un'altra parte nessuno ti dice niente quindi nel mio caso sono arrivato ho settato la residenza ho registrato la residenza e poi cioè avevo già iniziato a lavorare quando ho registrato la residenza era passato secondo me due o tre settimane per cui andava benissimo e fin tanto che non superi i due mesi se non mi sbaglio forse potrebbe essere anche uno non saprei però c'è comunque un margine d'errore ma poi scusa tu che hai seguito parecchi annunci non è vero che ce n'è tanti in cui ti dicono che ti hanno supporto alla alla relocazione quindi al trasloco tra virgolette mi sembra appena l'ho messo però mi sembra c'è sempre questa cosa del ti devi spostare ma ti aiutiamo noi nel processo più o meno dipende solo dal livello di supporto che ti danno cioè nel senso anche l'azienda per cui lavoro io non è che mi ha dato chissà quale supporto cioè nel senso quello che devo dire è che cioè nel senso mi hanno dato il bonus di relocation che significa un bonus economico poi eventualmente esatto sei tu che devi spendere quei soldi per carpire informazioni per assumere qualcuno che ti trova una casa o che ne so diciamo per semplificarti la vita quando arrivi anche perché ci sono mille aspetti ovviamente a cui devi pensare tra assicurazioni sanitarie pensioni appunto residenza e tutte cose di cui non hai più palida idea quando magari uno si sposta in un altro paese per cui o paghi qualcuno oppure lo fai da solo però sì alcune aziende come dici tu offrono diciamo servizi di relocation che ti aiutano con persone dentro l'azienda che ti aiutano magari a proprio fare tutti questi step o altre molto più spesso secondo me ti danno semplicemente un bonus ti dicono ti diamo tot se pieni dove ti diciamo noi beh sì voglio dire male non è non era per sputarci sopra iperapensione cari come ti stai comportando no penso forse dice per la pensione per la pensione niente Giovanni Scambioli per la pensione bella domanda bella domanda prima vabbè mi preoccupo di arrivarci facciamo così è interessante però vabbè ma scusa ci sarà poi un ricongiungimento di qualche tipo sì 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 no no allora per quanto riguarda la pensione quella pubblica se possiamo chiamarla così ovviamente in Germania funziona più o meno allo stesso modo e ci sono agreement non so come chiamarli però patti diciamo tra i stati europei compresa Italia Germania per cui quando vuoi cioè nel senso puoi richiedere il trasferimento dei tuoi fondi pensionistici che hai versato in una delle due nazioni nell'altra e fare un merge quanto il tempo richiederà questo merge è una bella domanda quanto complicato sarà è un'altra bella domanda a cui non so ancora rispondere perché non è una cosa su cui onestamente ho dedicato tempo allo stato attuale cioè non mi sono più di tanto preoccupato se non appunto per guardare se fosse possibile unire le due cose in un secondo momento che sia in Italia o Germania l'importante è che erano si potevano unificare a un certo punto e questo con quella pubblica è possibile ovviamente come in Italia anche in Germania comunque consigliano di provvedere privatamente alla tua pensione perché quella pubblica non sempre basta e presumibilmente chissà se basterà quando ci dovremmo andare noi però 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 quindi sì il piano parallelo ovviamente è quello autonomo per cui uno magari cerca cerca sempre di risparmiare di tenere i soldi da parte di investirli e di riuscire a provvedere anche da solo per la pensione che sia questo a 67 anni o prima spiegabilmente però tendenzialmente questi due filoni paralleli sono gli unici pensieri che ho avuto sulla pensione fino ad ora ovviamente non ho potuto mantenere forse Giovanni visto che ci conosciamo e sapeva magari anche nel dettaglio più la mia situazione non mi ricordo se ne avevamo parlato però avevo piani pensione anche in Italia come magari molti dipendenti così ovviamente non ho potuto tenerli aperti perché trasferendomi all'estero comunque non avevo più i requisiti necessari per essere dentro a questi piani pensione per cui quelli lì sono stati chiusi liquidati e nonostante appunto teoricamente quei soldi sarebbero stati disponibili solo in età pensionabile nel caso di trasferimento altrove e di perdita completa dei requisiti a quel punto te li ridanno cash quindi poco male poco male tendenzialmente nel senso ci devo pensare da solo questa è la conclusione ma lo sai che dobbiamo farlo tutti probabile allora intanto mi sono dovuto trasferire due volte e purtroppo non ho mai avuto la relocation wow wow no l'ho sempre letto lo leggo molto spesso sopra me tipo quando c'è Dubai ah Dubai c'è la relocation quasi sempre forse da altre parti no o forse qualcuno secondo me magari soprattutto se uno è inizio carriera magari magari uno stagista o qualcuno che cioè nel caso in cui non hai tutti i requisiti che loro ricercano loro hanno molto più margine di negoziazione intendo le aziende e in quel caso potrebbero non fare offerte di questo tipo però sì strano per quello che avevo sentito comunque è abbastanza comune almeno avere o un supporto di relocation oppure dei bonus però sì sì probabilmente sì anch'io ho sempre sentito in paesi diversi Irlanda UK anche Olanda effettivamente qualche amico che ma perché poi e comunque tipo l'Irlanda mi ricordo non so se ti ricordi ma quando avevano iniziato la perigione di tutte le aziende perché abbiamo cambiato tassazione io mi ricordo proprio che cercavano di continuo però era un bel salto comunque andare in Irlanda così all'epoca non era quasi strano e mi ricordo un mio amico che lavorava lì gli hanno offerto comunque anche la relocation ma gli hanno offerto qualunque cosa pur di andare perché stavano prendendo gente a manetta quindi forse dipende anche un po' dal periodo no sì sì pensa ho conosciuto una persona l'anno scorso se non mi sbaglio però ancora me lo ricordo cioè non mi ricordo nemmeno più la sua faccia e il suo nome ma mi ricordo quello che aveva ricevuto perché mi sorprese a tal punto che adesso mi ricordo soltanto quello che aveva ricevuto e gli pagarono l'affitto per un anno diciamo lui bello bello proprio di lusso di lusso in questi casi per cui se uno riesce ad ottenere una relocation del genere ovviamente non ci pensi due volte non ti conviene più rimanere rimanere in Italia probabilmente però non è così comune sicuramente a me l'ultima volta hanno dato uno studio per tre mesi più tre opzionali questo è buono questo è buono uno studio per tre mesi più tre opzionali ci sta no ma insomma dipende anche forse dal periodo se un paese vuole attrarre di più o di meno o l'azienda prego buonasera cari miei Giuseppe come è andata la giornata tutto bene grazie Marco che bello come è cordiale Marco mi sai che noi la pensione è meglio che ce la creiamo se aspettiamo lo stato assolutamente ognuno va di a se stesso più che mai più che mai allora Karim è il momento che empatizzo passiamo al tecnico io voglio capire tu come sei diventato perché no come sei diventato un data ingegnere anche perché e così capiamo anche chi è interessato riprendendo poi la domanda di prima di Salvatore se non sbaglio o Alessandro come si diventa qual è il percorso quindi vai voglio sapere come sei diventato un data ingegnere diciamo che tutto iniziò probabilmente al master dopo la triennale cioè la laurea magistrale diciamo così per cui laurea triennale avevo studiato informatica standard per cui avevo basi di algoritmi e di tutti i concetti associati ovviamente a programmazione e software engineering in generale e poi nel master o nella magistrale come vogliamo chiamarlo mi presi la specializzazione per data science e big data tendenzialmente che era un po' il focus del mio percorso che feci durante la laurea magistrale cioè che essenzialmente si traduceva solamente con più esami orientati su questi contesti ma non è che c'era era sempre una laurea in informatica però con esami orientati su quel tipo un paio di esami molto caratterizzati big data machine learning appunto sono due dei più emblematici appunto rispetto a questa cosa qua rimaneva comunque anche informatica teorica e altre cose a scelta poi che uno poteva prendere però l'orientamento uno poteva deciderselo e poi ovviamente l'orientamento finale era dato anche dalla tesi che uno faceva e nella fattisoria io feceva tesi proprio in big data e quindi diciamo in una forma embrionale di data engineering o perché il data engineering che poi alla fine magari può essere molto più ampio e non è detto che sia necessariamente solo big data o chissà chissà che cosa adesso tante aziende si riferiscono a data engineering anche per ETL standard con tool della marcia su Roma magari per cui data engineering è una parola che sicuramente è molto ampia però sì diciamo la specializzazione iniziò lì io studiai queste due cose la prima esperienza lavorativa fu un po' più orientata al entrai in un'azienda di consulenza come data analyst a suo tempo però era un po' più orientata diciamo verso quella direzione io poi lavorai appunto come big data engineer per diversi anni sia in consulenza sia nella startup dove ero e da lì appunto la carriera poi si è sviluppata in quella direzione piuttosto che in quella in quell'altra appunto della specializzazione della laurea magistrale tutto iniziò da lì poi appunto nel corso di questo data engineering ho lavorato con diverse tecnologie che non sono necessariamente solo associabili al data engineering tipo vai sul pratico perché io sono un po' a secco di cosa nella pratica si traduce il tuo lavoro ok allora tendenzialmente tu la prima esperienza lavorai con SQL Visual Studio esatto Visual Studio 2008 se non sbaglio Visual Studio 2008 SQL un pochino di Python ma solamente perché mi proponevo per fare qualunque cosa chiedessero in Python anche se loro volessero che veniva fatta volevano che veniva fatta in Visual Studio e diciamo tecnologie di questo tipo poi e questa azienda appunto era quella meno orientata al data engineering prima azienda di consulenza poi dopo mi sono spostato più verso il big data e da lì le tecnologie diciamo che adesso associo di più al data engineering e che utilizzo e che ho utilizzato sono sicuramente quelle Spark ad esempio ma anche Python come linguaggio di programmazione o Scala tendenzialmente è il più utilizzato nel data engineering in generale non so se magari riconosci se conosci Scala o così però no non ho mai fatto questo tipo di mestiere prodotti di questo tipo anche altri di Apache compreso NIFI compreso Airflow diciamo sono tutti prodotti che servono per eh? TensorFlow TensorFlow è più per più per la data science tendenzialmente perché appunto è una libreria che serve già che siano due cose diverse già mi metto in difficoltà se vuoi spiegarcelo io dico per gli ok ok no no io do scusa lo do per scontato magari che la differenza effettivamente sia chiara ma effettivamente non lo è e non lo è nemmeno per i diretti interessati spesso quindi figuriamoci per gli altri però diciamo sono due sfumature eh di cose simili ma diverse ossia il data engineering riguarda più proprio l'ingegnerizzazione dei dati inteso come lo spostare manipolare creare strutture dati eh salvarle eh manipolare i dati in generale e appunto preparare tutti i dati ai fini eh di altre cose che possono essere applicazioni web che possono essere algoritmi che possono essere cose di questo tipo poi magari appunto possiamo anche espandere la sua definizione di data engineering ti sto dando una definizione un po' dammi probabilmente è la prima che mi viene la prima che mi viene in mente onestamente eh però questa qui è più la parte di data engineering la parte di data science ovviamente è più invece di analisi effettivamente di quei dati cioè comprendere quello che quei dati mi dicono e cercare di farci qualcosa ai fini di business molto spesso cioè nel senso creare algoritmi magari per il business basandomi sui dati che i data engineer hanno prodotto grazie a tutta eh gli algoritmi di ingegnerizzazione eccetera eccetera per cui diciamo noi siamo la parte eh più cioè i data engineering sono la parte più eh di ingegnerizzazione dei dati eh storage eh anche sì eh gestire lo storage e creare strutture dati manipolarli eccetera eccetera i data science sono più una parte di analisi e sviluppo di modelli spesso volti a interpretare quei dati e a farci qualcosa che può essere spesso nel merito del contenuto vero e proprio dei dati infatti il tensorflow l'ho utilizzato l'unica volta in cui si è avvicinato questo mondo in cui analizzavamo il classico classica i classici i primi chatbot delle robe bruttissime utilizziamo il tensorflow per fare l'analisi della struttura delle parole delle frasi eccetera eccetera e quindi sì che poi non significa comunque che anche i data engineer non facciano attività più orientate da data science e che i data scientist spesso non facciano anche il lavoro dei data engineer è per questo che sono due figure che spesso anche quando trovi una una job description devi stare attento a leggere quali tecnologie ti richiedono e che cosa richiedono perché a volte magari c'è c'è una definizione confusa e magari qualcuno cerca più un data engineer piuttosto di un data scientist però magari ci scrive data scientist però ti chiede magari tecnologie come spark scala eccetera eccetera che spesso non sono cose da data scientist magari sono più cose da data engineer per cui è una definizione molto sfumata però ecco scusami tu forse l'hai fatto direttamente dagli tuoi studi ma visto questa definizione quasi così labile come hai scelto una cosa piuttosto dell'altra eh sì come come ti dicevo non sono io che cioè che ho scelto più che altro diciamo che piano piano la carriera si è sviluppata anche in quel senso per me erano due passioni mi piacevano entrambe quindi non mi sono trovato proprio in una situazione in cui dicevo oddio no questa non mi piace quell'altra sì cioè per me erano più o meno due facce cioè erano due cose che mi piacevano entrambe direi per cui la carriera si è sviluppata piano piano in quella direzione mi sono ritrovato appunto che sono più in data ingegnera sicuramente che un data tagli si è verticalizzato sì sì dopo cinque sei anni che lavori ovviamente su quelle tecnologie così al massimo il resto lo continuo a fare come dicevamo prima per divertimento come side project per chi ha tempo eccetera eccetera però sì la verticalizzazione poi alla fine è diventata quella però guarda mi hai detto cioè io non riesco a capire ancora una cosa se tu dovessi raccontarmi nella pratica ma senza entrare nel dettaglio perché tanto non ci capirei niente la tua giornata tipo lavoro cioè fisica io ti posso dire formatore web è facile nel senso posso dirti che perdo tempo a strutturare ci sono diverse fasi eccetera ma è più facile da spiegare nel tuo caso sono curioso di sapere proprio nella pratica allora è stata devo dire che comunque ovviamente penso anche per te ma per tutti è stato molto variabile nel corso degli anni la giornata tipo sia per un livello di seniority e sia per un livello proprio di azienda e di task concreti e di tecnologie che uno utilizza per cui ogni volta è stato la questione è stata completamente diversa e non sempre cioè oggigiorno comunque il primo task della giornata è rispondere a tutti i messaggi slack e mail che mi arrivano tendenzialmente quindi cioè non è così data engineer come uno potrebbe pensare sicuramente diciamo che partiamo che una volta o comunque anche anche oggigiorno diciamo sì appunto quando ho dei task più specifici su cui lavorare solo quelli fortunatamente da fare è una giornata tipo di programmazione back end la definirei cioè nel senso una volta che definisci ovviamente una volta che definisci il modello o l'ETE o comunque una volta che definisci il processo che vuoi sviluppare per manipolare questi dati per spostarli per salvarli per fare qualunque cosa ti serve di fare con questi dati tutto sta poi spesso a svilupparli poi certo c'è anche una fase anche lì che può capitare nel mentre o a monte di analisi che puoi fare in SQL per capire almeno i dati come sono strutturati per farti un'idea tu di quale può essere la cosa giusta da fare anche come salvarli eccetera eccetera però sì non c'è molta distinzione secondo me no sì forse un po' sì però non c'è molta distinzione anche da un back end più standard se vogliamo in termini di giornata tipo poi ovviamente i task sono completamente diversi però la giornata tipo la definirei così o almeno quella ideale che non ho più perché adesso fatte le call facciamo stare le call esatto no però è chiaro no ma era per capire nel senso poi alla fine sì suppongo che ci sia solo tanto poi dipende anche che tipo di programmatore back end sei ma il succo poi quello certamente di aspetta però allora visto che in realtà tu il tuo percorso comunque mi sembra abbastanza dritto cioè tu l'hai studiato c'è un percorso anche accademico che ti ha portato ma se dovessi rispondere se dovessi trovare eccola eccola qua no allora Alessandro chiede come passare da sviluppatore front end a data engineering che comunque è un salto su più dimensioni io ti chiedo secondo te tu che hai esperienza rispetto a una persona che magari appunto o ha un percorso accademico diverso invece lo posso avere io università ma non sono poi andato a fare un percorso del genere oppure non ha neanche un percorso accademico poi il programmatore front end o back end ovviamente magari back end assolutamente mi viene a dire sarebbe meglio ma facciamo finta che conosca anche python cioè quindi però di un altro mondo che percorso potrebbe fare e se può fare un certo percorso per diventare comunque un data engineer o comunque entrare nella sfera fare di data scientist o qualcosa di simile allora secondo me partiamo dalla fattibilità la fattibilità secondo me c'è assolutamente c'è nel senso una mia opinione un po' controversa è che quasi tutti i lavori cioè quasi tutti i lavori si possono imparare diciamo in tempi relativamente brevi che non è detto che ovviamente è un mese però se ti metti lì e un anno anche stai sul posto di lavoro anche quasi del lavoro più complicato alla fine qualcosa impari forse non sarai mai bravo come chi ha avuto un percorso accademico e delle basi ovviamente per risolvere qualunque problema però c'è il senso se ti metti su un percorso e lo vuoi imparare tipicamente lo puoi imparare dopo un po' di tempo e non penso che il data engineering sia un lavoro talmente complicato diciamo che è di nicchia e solo per le persone che hanno avuto il mio background che quindi hanno studiato per far piacere sentirlo perché da fuori sarà il nome ma da fuori c'è un po' veramente ammazza non lo so so che c'è un po' di mistificazione possiamo dire forse del data scientist del engineering eccetera eccetera però onestamente sì soprattutto uno che ha un background di programmazione per quello che serve alle aziende può impararlo sicuramente cioè non stiamo parlando di ricerca scientifica che a quel punto magari ovviamente il background accademico diventa più importante cioè il conto è che parliamo di quello ma se parliamo di quello che serve alle aziende tutto si può imparare probabilmente e nemmeno con un anno lo so opinione molto controversa discutibile però sicuramente la fattibilità c'è per quanto riguarda il come bella domanda cioè nel senso che io sappia percorsi specifici diciamo per chi è proprio già per chi è già un programmatore e vuole svilupparsi in quella cosa non ne conosco partiamo da questo quindi non è che conosco un corso magico che mi insegna il data engineering tutto sta a diciamo cercare di fare questa transizione lentamente magari inizialmente con se uno è già un sviluppatore front end può magari secondo me poi sto dando solo un'idea iniziare a fare dei task di back end nel contesto di dati che ovviamente può essere una cosa sì cioè cose semplici magari in sql cose di questo genere una volta che uno ha acquisito familiarità con quelle tecnologie diciamo base del data engineering anche e inizia appunto a spostarsi sempre di più anche sullo sviluppo magari di software relativo sempre ai dati eccetera eccetera imparare in parallelo le tecnologie che ho menzionato prima come spark che è un po' la base secondo me un pochino il data engineering ma anche conoscere python è abbastanza indispensabile scala scala magari non troppo dipende però python sql spark diciamo sono cose molto ricorrenti in una job description di un data engineer se non conosci quelle magari è più complicato sicuramente iniziare a spostarti lì però una volta che uno inizia sviluppare competenze in queste tecnologie linguaggi eccetera eccetera poi la transizione dipende tutto da sia se l'azienda dove lavori magari ti permette di farlo aggivolmente o se no devi magari trovare un'altra azienda a cui gli dici guarda io ho imparato tutto ho lavorato come front end però ho imparato tutto diciamo sul che ovviamente magari non è facile è sempre un casino ci credo no no ci credo non so nemmeno appunto quanto poi un recruiter di HR ti tenga in considerazione se c'è nel senso vede il curriculum tuo ci puoi anche scrivere che tu sei bravo ormai che hai imparato le tecnologie del data engineering però magari quello vede che tu sei un front end developer e dice a me mi serve un data engineer non un front end developer quindi magari è più quello veramente le difficoltà che uno poi deve affrontare piuttosto che i reali secondo me limiti nell'imparare questa professione che dal mio punto di vista per quello che serve le aziende cioè non è diciamo il lavoro più complicato del mondo certo non è diciamo il bidello solo perché diciamo un lavoro che puoi imparare abbastanza velocemente però però secondo me si può imparare tendenzialmente ma allora io posso dire una cosa che non ho che ho fatto chissà ma la mia reputazione è andata però io c'è stato io ho iniziato più in ambito sistemistico poi ho fatto cos'è di al senso sistemistico ma volevo invece spostarmi completamente sulla programmazione perché intanto lo facevo da freelance ma volevo anche da dipendente a un certo punto il mio curriculum è diventato quello di un programmatore ora nel senso che anche le esperienze passate siccome un po' di programmazione l'ho sempre sviluppato l'automatismo ovviamente era quello che mi piaceva fare a un certo punto ho cambiato percezione di quello che era la mia esperienza ora io non so se questa cosa sia appena tutto però una cosa che conviene sempre fare quando ci si candida soprattutto per un lavoro che piace tanto o per un settore diverso è cercate di vendervi meglio per quello ovvio che se tu mi arrivi con un curriculum scritto frontendivello per skill principali react typescript e node fine però voglio fare data engineering guarda bello bello ma anche no è difficilissimo girare un curriculum in un certo senso bisogna inventarsela però come dicevi tu le skill magari ve le fate e allora serve anche in qualche modo tirarle fuori ora non dico di barare nel CV ma cercate di spingere come dei forsennati sul vostro obiettivo poi le cose le dovete dimostrare di sapere però quella è un'altra storia io non ho detto niente ma non so se tu hai hai notato la stessa tendenza che l'esperienza che ho avuto io anche universitaria post universitaria secondo me gli informatici ingegneri informatici o professioni comunque programmatori e via dicendo hanno molto la tendenza a fare sempre underselling piuttosto che overselling che è una cosa che onestamente a me piace cioè non sono per niente il tipo da overselling non mi piace non mi far sta bene nemmeno paradossalmente cioè nel senso cercare magari non so se i termini questi inglesismi sono comprensibili diciamo a tutti però diciamo vendersi magari come qualcosa che non si è non sono assolutamente un fan ma nemmeno scrivere cose che effettivamente uno non ci capisce niente però allo stesso tempo valorizzare bene quello che uno sa fare e soprattutto scrivere tutto anche quelle cose che uno dà per scontato che magari sono scemenze per te sono scemenze per gli altri molto spesso non sono per niente scemenze sono cose molto di valore ma anche progetti spesso cioè mi ricordo all'inizio per puro caso magari nei colloqui ovviamente ti facevano domande e tu raccontavi i progetti che io gli avrei dato una lira ovviamente c'erano progetti scemi accademici magari cose del genere che avevo fatto così per gioco e magari cioè per qualcuno ovviamente in azienda e adesso ne capisco anche i motivi erano veramente cose di alto valore per cui noi secondo me informatici abbiamo un sacco questa tendenza a fare sempre underselling a dire sempre meno o comunque mai a eccetera o comunque a dire più di quello che siamo veramente sicuri al cento per cento e mi piace come cosa però al stesso tempo è anche importante valorizzare quello che uno sa fare bene quello che dicevi tu poi alla fine cercare di mettersi nella posizione competitiva e che dicendo le cose giuste bere ovviamente però vendendosi bene se vogliamo sì sì no senza inventarsi mai niente questo è proprio obbligatorio perché tanto cioè comunque paga sempre l'onestà questa è un'altra cosa che ho visto nell'esperienza anche a dire una cosa non la so io mi sono trovato un colloquio in cui a un certo punto mi stavano spiegando un sacco di cose quindi ho detto beh se sono venuto qua a farmi spiegare le cose il colloquio sarà andato male giustamente però in realtà per la figura che cercavano alla fine mi hanno detto no comunque vai bene perché sei stato anche in grado di farti spiegare le cose e un sacco di gente a quanto pare invece in quel caso al contrario la prova la spara oppure cioè anche una serie di atteggiamento però mai inventarsi niente soprattutto sul curriculum ma bisogna saper vendersi non c'è niente soprattutto adesso che sta aumentando tanto l'offerta di programmatore ovunque soprattutto quando si è all'inizio inizia a diventare un po' più dura lo vedo perché poi ho a che fare con tanti junior che mi chiedono sta diventando più dura perché è difficile anche farsi notare e quindi bisogna anche sapersi vendere nella propria unicità che poi magari diciamo io non ho niente di unico e lo so però devi tirare fuori qualcosa devi raccontarci il tuo percorso la comunicazione fa tanto è una cosa che anch'io non ho mai pensato di farla per trovare lavoro io tramite il canale youtube ho visibilità come programmatore è una situazione diversa però capisco che non è per tutti ma tante persone cercano una strada di comunicazione oggi anche perché serve quindi si sta un po' complicando la situazione lo vedo soprattutto per chi inizia adesso però è portato un punto che mi è piaciuto particolarmente sì soprattutto quello lì dell'onestà è una cosa che sono al 100% d'accordo cioè secondo me tutte le persone hanno fiuto per chi dice fesserie diciamo cioè nel senso se tu stai facendo finta di aver capito una cosa se tu stai facendo finta di sapere una cosa cioè insomma se ne accorgono soprattutto i recruiter se ne accorgono le persone con cui parli e diciamo non fai per niente bella figura cioè fai molto più bella figura semplicemente a dire una cosa non la so cioè nel senso ma anche oggigiorno cioè recentemente non ho fatto chissà quali colloqui però anche oggigiorno se devo fare colloqui magari anche dopo tanti anni di esperienza se una cosa non mai la ricordo non la so magari se non la so basta non mi ricordo cioè non è che c'è bisogno che uno deve sapere tutto e che tutti si aspettano che che tu sappia qualunque cosa è tutto per uno junior no se uno junior e poi ma cioè comunque adesso non entriamo in questo discorso perché proprio oggi parlavamo di questi annunci dove viene chiesto qualunque linguaggio di programmazione a uno junior no che non ha senso l'annuncio di per sé oppure poi i colloqui questi senior non voglio far polemiche alla fine c'è sempre polemiche però questi senior che si incattiviscono nei confronti a persone con cui fanno il colloquio colloqui tecnici gente che viene fuori con le ossa rotte dai colloqui voglio dire io capisco il colloquio che va male perché non sei pronto però in quel caso devi capire che cosa ti manca per superare i colloqui non che esci e ti senti un fallito ma questo fanno tante persone è incredibile guarda lasciamo oggi oggi è interessante è interessante ti farei un sacco di domande al riguardo però non ti voglio verticalizzare no no io ho ancora domande per te mi spiace ma per oggi allora prima volevo rispondere quando ci si può definire web developer quando ti pagano per fare developer le definizioni lasciano tempo che trovano ci chiede Giovanni invece se l'estero è diverso ovvero le persone sono più brave a proporsi bella domanda bella domanda quando mi sono riferito prima a diciamo l'underselling al fatto che soprattutto programmatori o informatici hanno questa tendenza a sottovalutarsi mi riferivo soprattutto all'Italia perché diciamo maggior parte della mia esperienza è stata lì appunto e ho conosciuto la maggior parte veramente delle persone all'università ovviamente che fanno adesso il mio stesso lavoro e per cui conosco questo tipo di attitudini all'estero non saprei onestamente penso che chi è arrivato qui diciamo potrebbe avere il bias del sopravvissuto nel senso che chi è arrivato qui aveva abbastanza buone capacità comunicative da vendersi per farsi sponsorizzare una visa per farsi fare un progetto di relocation per farsi fare tutte queste cose quindi chi è arrivato qui e con cui parlo io è un subset che è esplicativo ma fino a un certo punto nel senso che è sempre è il sopravvissuto compreso me alla fine non è quello che è rimasto magari nell'altro paese che non è riuscito a fare il colloquio all'estero e che magari voleva andare a lavorare in Germania che magari ancora non ce l'ha fatta per cui non saprei quelli le persone che ho conosciuto alcuni si hanno buone capacità comunicative altri non saprei giudicare onestamente perché alla fine poi conversazione tra amici non è che è uguale a conversazione professionale o colloquio di lavoro e io non faccio colloqui di lavoro quindi magari non sono nel dettaglio proprio però sì appunto sicuramente quelli che sono arrivati qui erano abbastanza bravi da vendersi decente non dico bene ma decentemente per arrivarci per cui ma ci sia già una bella selezione nell'essere poi a berlino comunque lavorare per multinazionale in questo caso ci sta più sali anche per quello guarda non lo stereotipizzerei onestamente nel senso che non sono nemmeno come ho detto prima né a Germania appunto il paese dei balocchi né se a berlino ci sono soltanto i professionisti del data engineering i professionisti del software del assolutamente no cioè nel senso è una città è una grande città come un'altra cioè nel senso ci sono sì persone molto qualificate molto molto brave ho conosciuto persone veramente ossessionate con questi domini questi settori che veramente sono bravissimi cioè da far paura però allo stesso tempo c'è la risolpressione di medie capacità tendenzialmente non è che sono tutti bravissimi appunto è il paradiso in cui solo i programmatori più bravi arrivano e se uno viene risultato per noi tu sei bravissimo mi spiace non puoi scappare da questa cosa grazie sulla fiducia nemmeno mi avete visto programmare quindi sì solo così però va bene apprezzo la fiducia arriviamo all'ultimo argomento non voglio tenerti qua 16 ore ma voglio ancora chiudere poi con l'ultima parentesi della tua targhetta da youtuber volevo solo finire un attimo ma anche comunicazione durante il lavoro chiedere sempre soprattutto se sei junior sì sì ma assolutamente ma stare in mezzo alle altre persone tutto fa è un colloquio queste cose si notano se siete una persona che è in grado di collaborare oppure no e poi cosa ne pensate della comunicazione dissing che noto sempre più usata può aiutare per emergere oddio dissing non lo conosco nel contesto di programmazione ma del tipo adesso perché su linkedin in effetti inizio a vedere un po' qualunque roba forse tipo quelli che io faccio per scherzo tipo che ne so react è meglio di questo io non lo so cosa ti riferisci però per emergere bisogna essere positivi e propositivi l'impegno secondo me è la cosa che aiuta sul lungo periodo sul breve periodo può valere tutto ma sul lungo periodo se voi avete voglia di lavorare e la riuscita a dimostrare a far vedere in tutti i modi fate link linkedin fate post oppure fate repo su repo partecipate a community open source qualunque cosa se voi lavorate secondo me prima o poi viene fuori sempre in qualche modo però bisogna un minimo rispetto a prima che magari si veniva scovati più facilmente adesso bisogna emergere farsi notare di più però nel positivo cioè fate cose no 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 aspetta un momento non parli mai di un collega no no come no secondo me no 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 dai cioè detta che il classico sono tutto io sono figo solo io ma no cioè queste persone vanno sotterrate con i fatti non c'è alternativa per emergere poi se parliamo di emergere in un'azienda io me ne tiro fuori cari lasciate io il mondo aziendale sono un po' fuori ormai ma guarda onestamente me ne tiro fuori anche io ma perché sono quel tipo di quel tipo di programmatore old school a cui non è mai interessato onestamente niente di diventare il dirigente della questione per cui mi tiro fuori anche io solamente perché non ho mai provato a perseguire la crescita da quel verticale cioè in quella verticale la mia crescita è sempre voluta essere tecnicamente parlando cioè quello che mi piaceva onestamente cioè per adesso non ho mai avuto l'ambizione veramente di mettermi a diventare manager per fare non lo so i piani tutto il giorno mandare email non mi piaceva onestamente più di tanto se non magari ovviamente nel senso puoi imparare a gestire altre persone un team lavorare con altre persone quello onestamente fa parte anche un pochino della crescita di una persona che si vuole prendere delle responsabilità anche dal punto di vista tecnico però in termini manageriali proprio no capisco forse un pochino quello che dice e questo dubbio che magari a uno gli può essere venuto a lui gli può essere venuto inteso come in alcuni ambienti molto competitivi c'è chi sgomita e che e che magari si mette davanti agli altri per crescere e alcune volte in ambienti non necessariamente meritocratici potrebbe funzionare cioè nel senso ho visto aziende in cui quest'attitudine magari potrebbe premiare poi non lo so cioè nel senso questa è un'opinione che lascio al tempo che trovo è solo onestamente c'è l'opinione mia però ci sono contesti in cui questo potrebbe premiare vorrei farlo per qualche motivo per nessun motivo cioè sarei disposto a cambiare la mia persona e dover insultare la gente solo perché devo crescere dentro l'azienda cioè non mi importa niente e penso e spero che nel senso l'etica vada prima dei soldi vada prima della crescita cioè nel senso non è che se uno ti dice cioè se non lo so insulti tutto il giorno quell'altro collega allora ti diamo un bonus di 10.000 euro tu lo fai cioè o forse sì è una cosa così scema forse lo fai però nel senso ti dico una cosa magari un po' più un po' più grave o comunque una cosa che compromette un po' più l'etica come quella di fare dissing tutto il giorno dei colleghi cioè veramente nemmeno per scherzo forse però appunto è solo un'opinione non richiesta onestamente no no ma sono d'accordo tra l'altro quindi c'è ma succede sempre di più i social sono pieni di fenomeni sì ma sono solo ad inquinare le acque comunque chi ha opinioni forti estreme gli estremismi in qualche modo attirano comunque persone ma chi se ne frega noi comunque facciamo un lavoro che ha a che fare con metodo scientifico cose probabili cioè avere delle opinioni mi sembra veramente ininfluente nel nostro lavoro poi in realtà ci sono è giusto averle però in realtà poi in fronte ai fatti del nostro lavoro a me non me ne frega niente inizialmente di cosa succede da questo punto di vista però capisco che le realtà aziendali siano variegate è vero ma nel senso lo capisco quello che dice anche sui social ma anche nei posti lavorativi cioè nel senso fortunatamente non mi è mai capitato vuoi perché alcune volte lavoravo da solo vuoi perché adesso lavoro con una compagnia diciamo internazionale che è molto più diversa è più complicato però non mi è mai capitato di vedere proprio invidia tra i colleghi però ad esempio anche sentimenti di questo genere che sia su youtube per dire tipo una scemenza o che sia proprio anche tra programmatori esiste un pochino questa cosa qui che in alcuni contesti magari qualcuno si mette davanti all'altro o comunque percepisci che qualcun altro non ti vuole dire qualcosa magari che ci sono tensioni cioè nel senso però sono atteggiamenti che sotto nessun punto di vista ovviamente mi piacciono e penso che possano portare qualcosa di buono compresa la crescita aziendale cioè nel senso più uno si tira fuori da questi meccanismi e magari vive cioè vive anche genuinamente queste cose sapendo che alla fine anche da quello che c'è dal più junior del mondo probabilmente può imparare qualcosa e avere un rapporto alla pari in generale seppur ovviamente poi magari ci sono delle gerarchie che uno deve rispettare o comunque delle cose che devi fare però fintanto che uno tiene a mente che le altre sono persone e che comunque qualcosa probabilmente uno può imparare comunque è sempre l'attitudine che mi piace di più onestamente ma anche sul discorso social appunto non è che cioè la competizione e l'invidia o queste cose qua non importano molto lontano almeno secondo me no no sono d'accordo poi se l'azienda premia questo tipo di comportamenti è il momento giusto di cambiare l'azienda esatto esatto mi hai tolto le parole di bocca guarda allora Karim ti chiedo l'ultimo sforzo perché io voglio sapere tutto questo no sei arrivato facile quindi università master data ingegner berlino ma per azienda multinazionale facile però tu in realtà è più facile no no lo accetto però in realtà tu hai un canale youtube in cui parli di finanza personale anche un sito scrivi articoli quindi tu in realtà hai una grande passione per la finanza personale e questa da dove arriva come sei finito a fare video di finanza personale allora bella domanda pure questa tutto è iniziato ovviamente cioè a me è iniziato tutto quando ho iniziato a lavorare quando ho iniziato a lavorare venendo da una famiglia di risparmiatori più o meno grandi risparmiatori oserei dire cioè una famiglia che per carità non avrebbe sperperato nemmeno un centesimo per una cosa futile probabilmente però venendo da questo genere di famiglia ho ereditato un pochino questa attitudine da lì diciamo mi sono trovato che più lavoravo e iniziavo a mettere da parte ovviamente i primi risparmi ma non sapevo effettivamente che ci devo fare questi risparmi cioè nel senso dicevo vabbè un risparmio però che ci devo fare questi risparmi non lo so nemmeno io onestamente però lo faccio e questo è tutto cioè diciamo l'embrione l'embrione è iniziato così poi da lì appunto da questa domanda nel dire ok però sto diciamo correndo ma non so nemmeno io verso dove tendenzialmente ho iniziato a leggere libri a tema eccetera eccetera e da lì mi sono interessato sempre di più esponenzialmente direi a al panorama degli investimenti in generale perché ne iniziavo a percepire il valore anche se vogliamo il fatto che potevo stare tranquillo a 360 gradi potevo guadagnarmi una tranquillità economica per fare quello che mi pareva potevo guadagnarmi cioè nel senso ti sto raccontando l'utopia che vedevo poi non è utopia cioè nel senso quello che vedevo in quel momento il poter dire ok magari mi piacerebbe un sacco domani dire se mi sono stufato di lavorare di fare tutte queste cose io posso smettere cioè magari una cosa del genere eccetera eccetera e quindi tutte queste ambizioni come vogliamo chiamarle mi avvicinarono al mondo inizia a leggere un sacco di libri inizia a seguire canali youtube per lo più americani in quel punto e italiani anche c'erano un paio già che trattavano argomenti su questo tema però appunto si trattava di un paio a suo tempo cioè nel senso due tre che trattavano argomenti così in che anno siamo quando hai iniziato a fare youtube allora quando ho iniziato a seguire su questi temi qua penso che sia stato 2018-2019 2018-2019 no 2019 no no 2018-2019 perché ho iniziato a lavorare nel 2017 quindi quindi sì 2018-2019 più o meno è quando ho iniziato veramente a interessarmi della questione e poi da lì diciamo in background avevo sempre avuto un desiderio di fare qualcosa su youtube cioè in realtà tutto nemmeno partiva da youtube tutto partiva da un blog così però avevo l'idea di fare qualcosa online cioè di pubblicare articoli online magari su qualche argomento e in quel momento mi rise conto che questa cosa mi interessava un sacco mi rise conto che non c'erano tante persone che ne parlavano dal punto di vista che interessava a me e nel modo in cui avrei voluto parlare io che magari era interessante anche per qualcun altro mi chiedevo in quel momento cioè magari il mio punto di vista quello che mi piacerebbe tanto vedere a me che non trovo magari interessa pure a qualcun altro e in quel momento appunto iniziai a fare qualche piccolo contenuto test demo diciamo online ho realizzato un video youtube per farti capire anche quanto ero amatoriale ma non solo amatoriale ma anche quanto non sapevo se questa cosa effettivamente avesse un senso e quanto io non avevo la più palida idea di quello che stavo facendo realizzare un video e pubblicare sto video sul mio canale a caso e dissi ok lo lascio lì per sei mesi e vediamo se qualcuno gli interessa e io così ho fatto cioè nel senso ho pubblicato sto video sei mesi prima nemmeno la mia faccia ci ho messo e sta ancora sul canale è il primo video che si trova sul canale cioè devo andare subito a cercare no posso stare non consiglierei però pubblicai questo video così per appunto per test così per scherzo se vogliamo parlando di finanza personale parlando di sì una piattaforma di investimento che utilizzavo a suo tempo cioè dicevo ok adesso parlo di questa piattaforma ho capito come funziona perché magari non parlarne a qualcun altro a cui può interessare questa cosa qui poi vabbè non si indachiamo sulla qualità di quello che è uscito fuori perché assolutamente cioè scusa cioè scusate a tutti quelli che hanno visto quel video però in generale la qualità qua non in generale in generale vai tranquillo dici no qua su questo canale questo canale è tutto fatto a caso sei il benvenuto ma no ma no dai vabbè comunque sì iniziai così per caso pubblicai questo video vedi che c'erano una sessantina di persone dopo sei mesi che è un numero ridicolo ma non so perché nella mia testa sembrava un numero promettente non ho idea del perché però sembrava un numero promettente e quindi niente prima della pandemia presi un po' più seriamente la questione e iniziai un po' più a pubblicare seriamente diciamo con continuità anche settimanale cose del genere per cui poi da lì è iniziato così oggigiorno appunto tutto è iniziato da un interesse genuino per la questione ed è continuato in quella direzione ed è tutt'oggi quella cosa lì io non sono un consulente finanziario non sono un professionista non sono nessuno cioè sono uno che bene o male prova a dare dei consigli in buon senso se vogliamo rispetto a quello che ha capito e letto sui libri in generale su tutto quanto l'argomento su questi argomenti tendenzialmente però appunto è tutto partito così da un interesse genuino poi comprensione sempre più nel dettaglio di questi argomenti che continuo a fare tutt'oggi perché ovviamente non è che ho capito tutto magari cioè nemmeno per niente però e diciamo condividere in parallelo questo processo d'apprendimento che poi alla fine si è rivelato essere anche molto interessante per alcune persone promettente dal punto di vista anche economico perché poi alla fine è diventato oggettivamente un lavoro un secondo lavoro se vogliamo con più o meno serietà però tutto era partito così tendenzialmente però adesso ovviamente piano piano ci metto impegno magari per per renderlo un po' più migliore a 360 gradi e porta contenuti sempre buoni ma comunque che rispecchiano quello che ti ho detto prima beh ma io penso che questa sia un po' la cosa bella di canali come il tuo dove magari si va a toccare un argomento che è delicato ma in Italia c'è questa cosa che i soldi sono un argomento delicato che dovrebbero interessare tutti la gestione delle finanze personali però fatto con la trasparenza di noi diciamo sto imparando queste cose e te le racconto punto pensano a fare troppi troppi giri quello secondo me è il fattore numero uno infatti guarda c'è anche un tuo canale SPAC grazie no sì sì assolutamente ma la cosa importante secondo me è quello che è molto facile perdere onestamente quando inizi a fare contenuti online ma sia su tutti i temi che sia questo programmazione che sia questo finanza è perdere sempre un po' il contatto con la realtà se vogliamo cioè più uno fa contenuti magari di finanza personale più ovviamente hai la possibilità di entrare nel tecnico perché ovviamente anche le persone che ti seguono imparano cose imparano cioè stanno si allineano con la tua conoscenza ovviamente perché magari se la condividi piano piano state tutti quanti sullo stesso livello però allo stesso tempo allo stesso modo comunque ci sono tante persone che c'è la maggior parte delle persone che non ha più pallida idea di quello di cui sta parlando tendenzialmente anche se per te è una banalità magari loro non hanno più pallida idea di quello di cui sta parlando è difficile è sempre tenere un occhio di riguardo per queste persone qua ed è quello che onestamente per me è quasi la cosa più importante cioè non voglio che non ho mai voluto che il mio canale diventasse una cosa di nicchia solo per privilegiati che hanno capito qualcosa di finanza o di investimento il canale mio e Odissi penso nella live iniziale in cui spiegai quello che volevo cioè qual era l'obiettivo è sempre stato quello di cercare di parlare di queste cose e rendere alla portata di tutti compreso chi veramente non ha mai sentito parlare di questa roba e che magari non ha una lira da parte che ovviamente se vai lì e gli fai il video in cui parli dell'ETF sull'MCI World che c'ha il TER e non lo so che cosa cioè nel senso chiude il video in 30 secondi e ti dice ma chi sta a dire e c'ha pure ragione cioè nel senso non è così però vabbè sono andato molto sulle lunghe sulla domanda tua no 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 a me in realtà interessa questo perché cioè io faccio altri argomenti però in realtà i punti sono gli stessi perché alla fine anche il fatto di voler fare contenuti che arrivino il più possibile anche se poi magari vuoi trattare non cose di basso livello ma vuoi andare anche un po' sul tecnico ma vuoi renderlo fruibile secondo me è la cosa più bella no perché alla fine è lo scopo c'è molta gente che questo magari no sì cioè qual è secondo me è il bello e quello che è la gratificazione più grande penso che hai avuto anche che hai anche tu da youtube è quando qualcuno si appassiona di quella cosa grazie a te anche cioè nel senso tu riesci a trasmettere un interesse genuino per qualcosa e quella persona gli piace quello che cioè finisce per piacere anche a lui quella cosa lì per me questa è una cosa ma non solo dal punto di vista appunto di gratificazione di ego personale che qualcuno ha imparato quella cosa ma perché quello di cui parlo seppure appunto è condividere la mia esperienza non è il guru di turno che ti deve insegnare chissà che cosa però è anche una cosa che so che può aiutare la vita delle persone a 360 gradi cioè nel senso quindi se tu ti interessi a un aspetto grazie a me per puro caso cioè nel senso che sono un signor nessuno però che ti interessi grazie a me a quella cosa che ti può essere cioè che ti può svoltare nel migliore dei casi ovviamente la vita però in generale te la può migliorare almeno di un delta cioè quella lì per me è una cosa bella non la sacrificherei per sì per dover cioè per per far diventare il mio canale un canale di elite solo per privilegiati che hanno capito eh certo tutto dagli investimenti che invece è una cosa sì molto comune secondo me ma molto ma anche molto facile che succeda perché oggettivamente una volta che ti costruisci la community la community inizia anche a richiedere un certo tipo di contenuti da te non è che vogliono sempre sentire la stessa cosa ovviamente perché altrimenti cioè nel senso eh eh questo è anche un altro bel discorso perché alla fine eh io lo noto molto spesso sui canali più grandi no? dove c'è a un certo punto arriva quello nuovo magari giovane che entra nella bolla per la prima volta e dice e fa la domanda ogni tanto vedo community un po' che si chiudono e quasi ricerciando eh ancora ancora 6 domande ma questo anche sui forum c'è questa cosa comunque eh a me piace un sacco quando trovi queste community questo però più sui forum se l'ho notato dove il quello nuovo di turno che fa la domanda fatta rifatta che è al limite del basta che scrivi che fai search e lo trovi la risposta ma c'è sempre qualcuno anche espertissimo eh che comunque prende del tempo e gli risponde questa cosa io la trovo fantastica che anche nel nostro lavoro di programmazione come essere un senior arriva lo junior che ti chiede ma scusa sta variabile come si e tu ti prendi la briga di dire perché senza sta cosa non si va ma guarda secondo me però nel nostro settore questa cosa è molto più frequente cioè nel senso ma dove lo trovi uno stack overflow per le altre cose della vita cioè per le altre cose della vita uno stack overflow non esiste cioè nel senso solo i programmatori possono avere questo spirito secondo me di condivisione io nella finanza sta roba non l'ho mai vista onestamente anzi cioè nel senso se sei uno che non ha capito cioè arriva sotto a un video e scrive che cos'è un etf non ho capito che cos'è un etf o che cos'è standard and pull 500 magari c'è anche l'influencer di turno che ti deride cioè lui stesso ti deride come se lui stesso non era stato nella stessa situazione dieci anni prima cioè nel senso io pure un giorno non mi ricordo quando ma non sapevo che era un etf non sapevo che era lo standard and pull 500 me lo ricordo chiaramente quando non sapevo che cos'era lo standard and pull 500 e sentivo tutti i giorni al giornale sta cosa con i frecci verdi e rosse però no no assolutamente ma guarda in realtà capisco però aspetta eh non mi ricordo però eh adesso non facciamo nomi di forum però io mi ricordo proprio su un forum di finanza molto famoso dove in realtà dopo tanto tempo ho speso a studiare da ascoltatore passivo è arrivato il giorno in cui ho fatto il mio post dicendo ok ciao a tutti tocca a me adesso prendere sto cavolo di conto deposit no conto titoli e comprare questi etf che poi le domande erano sempre ma se prendo questi due etf che sono quelli che dicono tutti questo è percentuale che dica va bene ad un certo punto dopo un po' di ore arriva uno che dice sì quanto certo sì però ti senti magari ne hai bisogno quando sei nuovo perché poi la programmazione vabbè vai lì fai i casini con le finanze no con le finanze c'è molta più paura e magari tu mi hai detto i tuoi genitori erano molto diciamo già improntati ad avere un po' di gestione finanziaria oculata ma in molti casi voglio dire anche nel mio caso ma comunque un po' sì spesso magari in casa non si hanno dei riferimenti forti su come gestirsi le finanze e alla fine ci si affaccia timidamente su internet e lì l'importanza di uno che si piglia la briga di risponderti cioè perché veramente puoi cambiare anche la prospettiva con cui un ragazzo dice ok ma allora io adesso ho questo lavoro ok ma allora se guadagno tot ma allora forse non devo farmi fregare tutti questi soldi allora magari devo risparmiare cioè cambia davvero tanto la vita uno si parla di soldi ed è un peccato che non ci sia niente di strutturato niente di che funzioni in maniera un po' più sana da questo punto di vista ogni benvengano youtuber come te che dici mi piace mi metto a parlare è un problema ma penso che tutti guarda tutti youtuber di finanza anche guarda chi alla fine io ho questo questo spirito per me su youtube cioè nel senso anche chi alla fine veramente parla del modo più di nicchia o che parla nel modo anche spesso magari fin tanto che non vende magari una cosa che veramente è uno scam se vogliamo però fin tanto che una persona parla di una cosa poi ne parla benissimo ne parla un po' meno bene ne parla in modo troppo specifico qualunque modo per me e per tutti secondo me è un valore non è un nemico non è un qualcuno con cui compararsi che oddio no se cresce lui non cresco io e tutte magari queste cose cioè nel senso uno se la community di personal finance se le persone interessate diciamo a questo dominio o alla programmazione come nel tuo caso no cioè più le persone si interessano a questi domini più è facile che le persone seguano anche più canali si interessino e poi non è bello anche soltanto che le persone si interessino a questa cosa qua cioè nel senso c'è bisogno di un tornaconto per essere una cosa bella cioè nel senso no no è bello che le persone si interessano a questi domini grazie a te grazie ad altri eccetera eccetera e poi sì sì basta basta solo questo qui mi ricordo se c'era un altro punto io a me fa l'idea perché io non so perché cerco di convincere tutte le persone che conosco tutte da senza motivo a fare youtube cioè ma io ho questo piccolo difetto a un certo punto della conversazione ma tu potresti parlarmi in un tuo canale youtube a me piace youtube veramente questo fatto però secondo me tutti hanno qualcosa da dire e hanno un modo unico di dirlo e qualcuno lo troverebbe sicuramente utile e guarda ti posso dire nel mondo della programmazione perché io faccio casino c'è il mio canale c'è la mia faccia le mie facce buffe quindi uno mi vede mi riconosce facilmente ma là fuori ci sono degli sviluppatori che fanno paura da quanto sono bravi ma che giustamente non non hanno una vetrina che magari non vogliono però quelli sì che ci hanno da dire quelli sì che potrebbero veramente trasmetterlo un sacco di roba quindi dai dai no sì assolutamente l'ascolto aprite canali perché brocca via no sì 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 è vero è vero condivido tutto forse io ho un'attitudine opposta alla tua su questo cioè nel senso non sono così promotore di fare youtube ma non perché non perché non mi piaccia l'outcome appunto o perché non lo so non voglio che altre persone si mettono sulla piattaforma anzi magari nel senso come dicevi tu una persona che si esprime diversamente da me è un valore aggiunto perché alla fine ci sono persone responsive tra virgolette a quel modo di fare e non al mio magari che a molti gli può stare antipatico a prescindere solo perché vedono la mia faccia già giustamente lo capisco non c'è niente di male però mi rendo conto anche che ovviamente nella vita è anche una questione di priorità tendenzialmente e nella mia esperienza youtube non è stata una cosa gratis cioè non è se diciamo un percorso di ingegnere è stato più smooth è stata una cosa diciamo appunto come dicevi prima semplice seppur nemmeno quella è stata semplice però youtube non è facile cioè richiede un sacco di tempo un sacco di conoscenze da zero che uno deve sviluppare e non so onestamente è una domanda aperta questa qua che faccio a te forse cioè non so se sempre cioè se ne vale la pena per tutti uno che è veramente bravissimo e che vuole perseguire altre carriere o accademiche oppure aziendali così lo capisco che cioè divulgare è un altro lavoro che vale la pena che ti metti a fare non lo so onestamente cioè è una bella domanda allora non parliamo di quanto lavoro ci sia dietro un canale youtube mai non parliamone mai perché poi tu sei un vero youtuber con veri numeri no ma tu sai quanto è bello quando io faccio un video ore ore ma poi adesso ho tagliato adesso ragazzi quello che viene viene buona da prima ma prima stavo lì ore 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 e poi giustamente magari non se lo cagava nessuno il video no e non è chiaro qual è il motore che ti fa dire sì e allora la prossima volta ci metto ancora più ore cioè tanto di quel lavoro per non si sa cosa in realtà poi come dicevi tu la cosa è al primo grazie di aver fatto questo video boh io l'ho finito mi piace voglio essere utile alle persone quindi capisco che non sia che qual è il motore ma capisco che giustamente come dici tu non sia per tutti però il fatto è che secondo me tutti hanno qualcosa di interessante da dire junior senior però nel nostro lavoro soprattutto lo vedi cioè io vedo dei programmatori veramente veramente in gamba che potrebbero aiutare tantissimo poi in realtà appunto youtube è un modo ci sono mille altri modi ci sono i blog le community l'open source cioè parliamo di gente che gratis lavora per creare cose che usano le aziende nella grande maggior parte dei casi però anche lì vedi gente che aiuta effettivamente siamo una bella community questa riflessione poi pure la parentesi open source che hai aperto è pericolosa perché pure lì se ne può parlare guarda oltranza però è genuinamente bello dai il fatto anche se poi facendo finta di tapparsi gli occhi sul fatto che poi qualcuno capitalizza e fa i soldi magari sulle cose mettendo insieme 3-4 cosette magari prese da 3-4 progetti open source però tappandosi gli occhi su questo qua ho sempre apprezzato un sacco nel contesto dei programmatori diciamo tutte le community che ne derivano compreso stack overflow che appunto può esistere solo nel contesto della programmazione mi piacerebbe un sacco che esistesse uno stack overflow nella vita quotidiana a 360 gradi ma non credo che succederebbe che qualcuno condividerebbe ore e ore di lavoro così online per nessun motivo in realtà nessuno gli ha chiesto cioè nel senso nessuno gli dà niente e ritorno molto non so se stack overflow paga qualcuno onestamente ma non credo non credo forse stavano inserendo qualcosa ma comunque no cioè comunque no il progetto è assolutamente condividere conoscenza così gratuitamente è bella è bella come cosa sicuramente e tutto questo secondo te no a questo per tutto il resto c'è l'anzullo in realtà per tutto il resto mi viene a dire c'è già il GPT nel senso questo c'è il GPT che alla fine va a prendere dati anche soprattutto ma una cosa su cui riflettevo è che secondo me il fattore umano non è che sia né irreplicabile né è proprio qualcosa che secondo me fa un po' parte del motivo per cui facciamo certe cose e secondo me se si viene a togliere quello cioè a me che c'è il GPT mi dia la risposta su come fare una cosa che va bene però mi non so come dire non so a te ma a me l'idea di andare su stack overflow leggere persone che scrivono in maniera sbagliata vedere i ragionamenti botta e risposta di per sé è qualcosa in più sarà che io lo vedo molto come un gioco questo lavoro del programmatore cioè per me a me diverte c'è la sfida quindi la vivo un po' come un gioco mia passione ok e a me semplicemente avere le risposte avere il codice che si autocompleta mi rende più produttivo però mi toglie un po' di o no o sto delirando perché è tardi secondo me potrebbe essere però no capisco quello che vuoi dire in realtà non so se capita anche a me però non credo onestamente cioè nel senso quello che capita che per cui preferisco comunque stack overflow alcune volte è un po' di reliability nel senso che comunque io mi fido ma so che poi dopo cioè non mi va che mi trovo nella situazione in cui magari prendo una cosa chat cpt mi dicevi fare una cosa io la prendo un po' a scatola chiusa e poi devo spendere magari un'ora a debbaggare quello che chat cpt mi aveva detto che era giusto quello che succede sempre quando uno chiede una cosa chat cpt però quindi diciamo mi fido sempre di più di stack overflow quando trovo una risposta che su stack overflow è verificata è quella è quella giusta difficilmente diciamo non è cioè diciamo c'è qualcosa è sbagliato proprio a morte al massimo non è il problema che dovevo risolvere io magari un altro problema però per quello preferisco ancora stack overflow per per la questione umana un po' cioè forse lo stack overflow effettivamente io dico in generale non so probabilmente cambierà un po' il nostro mestiere vista così se io ho sempre la possibilità di avere le risposte vuol dire che praticamente sto alzando il linguaggio cioè io parlo ad altissimo livello parlo voglio che sia fatto questo e qualcosa mi scrive il codice immagino che un futuro probabilmente si arriva a quello un codice che funziona ed è anche il migliore possibile perché in parallelo poi adesso ne sentivo parlare c'era al codemotion c'era forse questo che mi sta facendo svalvolare c'era il cofondatore github che ha fatto un talk in cui parlava del futuro degli degli idei cioè intanto perché scriviamo codice così perché abbiamo i file di testo perché abbiamo file che tu dici non ci ho mai pensato effettivamente perché programmiamo così come sarà tra 15 anni il futuro è dura da immaginare tra 15 anni e soprattutto con questo tipo di intelligenza artificiale l'idea però effettivamente potrebbe essere che ti poni in un altro modo cioè tu hai un problema hai una struttura puoi appunto parlare ad alto livello e hai l'outcome e quello che io penso è che ci sta bellissimo però io un po' gioco scrivere codice cioè è ovvio che è un discorso forse non legato al mondo del lavoro è proprio il alla fine noi ci complichiamo la vita un sacco di volte quando ci sono delle soluzioni più facili quindi però alla fine non credi anche che questo è solo parte di un processo di industrializzazione se vogliamo che è nato anche su tantissimi altri aspetti cioè nel senso io dubito che alle persone non piaceva fare i vasi a mano di terracotta e cuocerli tra virgolette no? cioè nel senso la persona che faceva i vasi di terracotta lo adorava probabilmente cioè nel senso che quando gli hanno industrializzato quel processo mettendolo su scala e facendo le cose molto delicemente giustamente quello ha detto ma io mi diverto come dici tu giustamente che poi penso che sia automatizzabile al 100% tramite AI eccetera eccetera forse no ma non lo so però forse no non lo so è una speculazione quella che diciamo sì sì ci sta però alla fine capisco anche che nel tempo come prima si programmava solo in C no? tempo assembly poi C magari poi eccetera si è progredito fino a Python che comunque è un linguaggio abbastanza ad alto livello cioè nel senso comunque non scrivi ovviamente linguaggio in italiano però diciamo è abbastanza ad alto livello e adesso si è arrivata si è fatto un salto quasi quantico direi cioè diciamo astrazione a livello AI che tu sputi parole in italiano e lui ti traduce tutto nel codice che gli dici che può essere qualunque per cui sì il salto è stato quantico d'altro canto è parte di un processo di industrializzazione un pochino secondo me che non so quanto porterà lontano nel senso se sarà il futuro a 360 gradi onestamente penso che l'umano in termini di analisi soprattutto di un problema che non so quanto le AI possa sostituire ma anche sì anche di responsabilità cioè nel senso la responsabilità di qualcosa è un qualcosa per cui le aziende sono disposte a pagare spesso multinazionali solo per avere la responsabilità che un'azienda si prenda di un prodotto ad esempio e quella responsabilità non la vuoi da CACPT ad oggi almeno non lo so secondo me è lontana ancora un pochino questa transizione a 360 gradi per sull'AI mi hai paragonato a un produttore di vasi a mano no scusa no no io mi sento tipo un anziano romantico questi programatori romantici rispondati quando scrivevamo c'ho già delle idee mi aveva tenuto delle idee bellissime su sta cosa non era che paragonare al produttore di vasi però in realtà ci sta ma in realtà la metafora ha piaciuto molto è anche la storia della responsabilità però la metafora è giusta nel senso io adesso a parte di scherzi davvero lo vedo da un punto di vista più romantico mi piace fare questa cosa quindi tanto vale farla sì bravo ma il progresso industriale porta in maggiore efficienza se l'intelligenza artificiale fa fare più cose più velocemente comunque con un certo grado di correttezza ciao ciao a Giuppi che scrive il codice romantico no no ma ci sta però mi piace devo fare un meme di me che facciva però lo condivido condivido posso dire che sono anche io un produttore di vasi perché condivido la gente cioè condivido l'interesse e il divertimento nel programmare codice indipendentemente da certe GPT quindi sì sì se vuoi no vabbè ma potrebbe anche essere questo una cosa del futuro nel senso alla fine io qua su YouTube mi diverto molto a fare cose che per lavoro magari non posso fare trovo il nuovo framework facciamo live coding su questa cosa cioè quindi ci sta che magari in futuro con l'efficienza ci permetterà di avere le famose settimane corte giornate corte si lavora un po' di meno magari quindi nell'equilibrio io io su questo con il mio con la mia bottega comunque solo per rispondere velocissimo poi chiudiamo Gabriel abbiamo detto tutto Karim ci ha detto tutte queste risposte quindi se torni indietro nella live che tanto è sul canale ci ha risposto molto a queste domande monia specifica va bene Karim io direi che si nota da quello che diciamo che le energie sono finite però è stata una grande bella chiacchierata mi è piaciuto un sacco anche a me anche a me grazie mi è piaciuto un sacco che hai hai preso proprio una strada ancora diversa dalle tante di cui parliamo spesso quindi hai guardato all'estero una città a caso di un altro paese appunto pare senza un reale motivo ma è bello anche quindi quindi so da fare buonanotte a Pavdar per tutto questo c'era Anzulla come diceva giustamente Karim è stato molto bello chiacchierare grazie grazie Giuseppe e grazie a tutti tutte le persone che sono rimaste con noi e che ci hanno seguito io comunque se passo da Berlino sì sì scrivimi scrivimi Berlino è molto molto bello ci sono stato una settimana solo con gli amici si vede che culturalmente è un bel centro europeo c'è un po' di tutto quello che ho visto però è divertente è divertente va bene grazie ragazzi come sempre grazie noi ci vediamo beh settimana prossima c'è già una live che non ricordo però a brevissimo iniziamo live coding molto strutturato c'è un sacco di cose dobbiamo fare dobbiamo fare live coding su React per lo speciale React Day dobbiamo fare un sacco di code ma ci sono grandi novità in arrivo quindi stay tuned Caroline di nuovo grazie ci aggiorniamo alla prossima e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.